Ma quanto è bello il suo marello! Non si fa toccà, eh! Questo sì però! Guardate che bello! Qui stiamo vicino al bosco, in un terreno privato. Bravi, giocate! Senza abbagliare, però se no si spaventano. Il contadino ci ha dato il permesso di entrare, anche di raccogliere le nocciole sotto agli alberi di nocciola. L'importante è che non diamo fastidio ai muli e mi ha garantito il contadino che non è vegano come me, però mi ha garantito che lui i muli li tiene perché gli piacciono e mai li sfrutterà. Guardate che belli! E io gli ho detto che io la carne non la mangio da tanto, ci può provare pure lui, però non mi interessa. Nel frattempo guardate cosa vi perdete voi che andate in giro per le città e adesso forse avete capito meglio perché me ne sto ai boschi. Sì, tra poco il filmato si chiude. E infatti vado che se no Nico rompe il cazzo. Ciao ragazzi! Eh? Chi sta meglio? Diglielo tu chi sta meglio? Chi sta meglio? Eh? Orecchio sinistro, quanto è bravo! Aia però, aia! Aia! Mi stava a mangiare un dito! Pensava che volessi dargli qualcosa da mangiare. Ammazza che denti duri c'hanno i somarelli. Però si vede che sto erbivori, era piatto piatto, infatti guarda non mi ha fatto un cavolo. Ciao cari! Ciao cari! Ciao ciao!